Salve a tutti ragazzi e benvenuti nell'ennesima lezione di trading, oggi affronteremo nuovamente degli argomenti importantissimi quindi mi raccomando prestate la massima attenzione perché queste qui sono le lezioni più importanti all'interno delle lezioni precedenti abbiamo visto i pattern di analisi tecnica, abbiamo visto come riconoscere un trend di alzista, un trend di bassista, una zona di supporto e resistenza e tanto altro e mi raccomando se vi siete persi le lezioni precedenti dovete andare assolutamente a guardarle vi lascio sia il link in descrizione e sia le lezioni in alto nelle schede detto ciò prima di andare avanti voglio solamente ricordarvi un'unica cosa ossia che tutto quello che andremo ad apprendere all'interno di questi video lo sto apprendendo all'interno dell'accademia di trading di cui vi lascio il link in descrizione siamo una community davvero molto ma molto grossa verete seguiti dalla A alla Z perché ci sono delle live quasi ogni singolo giorno quindi vi invito a dargli un'occhiata troverete il link in descrizione come sempre prima di andare avanti l'unica cosa che vi chiedo è di lasciare un bel like per supportare tutto il mio lavoro ed iscrivervi al canale attivando la campanellina per rimanere sempre aggiornati per voi è un'azione completamente gratuita ma per me molto importante per supportare tutto questo lavoro perché credetemi ci metto una marea di tempo detto ciò non perdiamo assolutamente altro tempo e andiamo subito avanti allora ragazzi andiamo subito al dunque senza giri di parole bisogna capire che in un grafico nel momento in cui ci ritroviamo magari in un trend rialzista queste volentieri i piccoli trader cosa decidono di fare decidono di trovare quella posizione dove avviene un'inversione di trend però cosa bisogna capire cosa voglio farvi capire effettivamente che bisogna operare solo in base al trend se noi ci ritroviamo in un trend rialzista quello che dobbiamo fare è operare a rialzo ossia aprire solamente posizioni buy semplicemente perché a livello statistico abbiamo un vantaggio in più poiché già sappiamo in che trend ci ritroviamo e dove potrebbe andare probabilmente il mercato ovviamente non c'è nessuna certezza però in base all'analisi che noi andremo a fare avremo più possibilità di percepire quel trend quindi di capire in che direzione va e quindi aprire una determinata posizione quindi questo è importantissimo e dove noi andremo ad aprire la nostra posizione andremo ad aprire la nostra posizione sempre sul ritracciamento di prezzo e abbiamo visto nelle lezioni precedenti che cos'è un ritracciamento ora però voglio farvi capire come funziona e come riconoscerlo nello specifico bisogna capire signori che nel momento in cui ci ritroviamo in un determinato trend supponiamo sempre il trend rialzista poi la stessa cosa anche per quanto riguarda il trend ribassista il prezzo per andare verso l'alto in questo caso nel trend rialzista ci mette pochissimo tempo mentre per quanto riguarda il ritracciamento ci mette il doppio del tempo e questo quindi è un ulteriore vantaggio in più perché nel momento in cui capiamo questo possiamo capire in che situazione ci troviamo e andando all'interno del grafico in questo caso prendendo sempre in considerazione il grafico di bitcoin possiamo vedere che in questo caso il trend ribassista avviene in modo direzionale quindi subito avremo la possibilità di capire in che trend ci troviamo infatti possiamo vedere queste candele rosse che avvengono in pochissimo tempo mentre il ritracciamento avviene nel doppio del tempo e questo è importantissimo possiamo vedere anche queste candele rosse in quanti minuti decidono di avvenire infatti possiamo vedere che in pochissimo tempo avviene questo ribasso mentre il ritracciamento avviene in molto ma molto più tempo ragazzi dopodiché abbiamo quest'altra zona che possiamo vedere di candele direzionali verso il basso e quest'altra zona ragazzi quindi qui noi dovremo andare ad aprire le nostre posizioni bene ragazzi adesso vorrei parlarvi delle prese di liquidità di zone di interesse da parte dei market maker cosa sono i market maker? in poche parole i market maker sono gli istituzionali quelle persone che hanno tantissimo capitale e che praticamente manovrano il mercato hanno il potere di fare questa cosa e bisogna capire che nel momento in cui si va ad aprire una posizione dall'altra parte c'è una persona che sta facendo l'opposto quindi bisogna capire che il mercato è manovrato dalle istituzioni e faranno di tutto per farci perdere dei soldi perché la nostra perdita è il loro guadagno quindi per chi conosce le basi sa sicuramente che in zone di supporto e resistenza avvengono delle inversioni di trend però quelle zone sono le più importanti per gli istituzionali dove avvengono spesso e volentieri delle manovre di mercato che ci portano a perdere dei soldi adesso lo andremo a vedere all'interno del grafico per farvi un esempio più specifico andiamo a prendere una zona di supporto allora supponiamo che noi stiamo operando all'interno del mercato delle criptovalute e vogliamo aprire una posizione buy di bitcoin quindi cosa facciamo? ci andiamo a segnare la nostra zona di supporto ragazzi e in questo caso è proprio questa qui quindi noi dove andremo ad aprire la nostra posizione buy supponendo che tutto questo ancora debba avvenire andremo ad aprire la nostra posizione buy proprio in questa zona perché noi sappiamo che il prezzo ha reagito in passato e potrebbe reagire nuovamente bisogna sapere sì che il prezzo arriva in questa zona però proprio qui avverrà una manovra da parte dei market maker quasi maggior parte delle volte è proprio così perché possiamo proprio andare a vedere il grafico normale perché questo è un grafico a linea per farvi capire meglio la zona di supporto il prezzo arriva in questa zona di supporto ma avvengono queste prese di liquidità da parte degli istituzionali perché? perché qui le istituzioni sanno che è una zona di interesse da parte dei piccoli retail e fanno una manovra di mercato così da far perdere soldi far prendere gli stop loss ai piccoli retail per partire poi a rialzo, piazzare i loro ordini quindi regola importante in queste zone bisogna stare molto attenti perché maggior parte delle volte andremo a prendere lo stop loss e poi il mercato risalirà poiché ci sono delle prese di liquidità detto questo io spero che lo abbiate capito perché è importantissimo e questa cosa la ripeteremo più volte all'interno di questo percorso quindi i piccoli retail cosa faranno quando il prezzo arriverà in determinate zone di supporto dove il prezzo ha reagito in passato andranno a piazzare la loro posizione buy con uno stop loss piccolo e il 90% delle volte tutti questi piccoli retail prenderanno lo stop loss e gli istituzionali piazzeranno i loro ordini e andranno loro in profitto e noi perderemo dei soldi e nel momento in cui capiremo questa cosa saremo sulla strada giusta un'altra zona importantissima dove avvengono queste prese di liquidità è proprio nelle fasi di lateralizzazione del prezzo poiché se noi andiamo a prendere delle zone di lateralizzazione quasi sempre cosa succede il prezzo non è che ragazzi ci fa praticamente questo assolutamente no ma maggior parte delle volte quando reagisce sulla prima zona di supporto nella zona di lateralizzazione arriva nella zona di resistenza e poi scende nuovamente ma però non è che va a reagire sulla zona di supporto ma quasi sempre il prezzo tende ad andare sempre più giù perché abbiamo tantissimi stop loss piazzati qui sotto li va a prendere tutti quanti e gli istituzionali aprono i loro ordini buy quindi spesso su queste zone di supporto in fase di lateralizzazione bisogna stare molto ma molto attenti ragazzi e noi non dovremo andare ad aprire la nostra posizione qua con la sicurezza che il prezzo invertirà ma bisogna aprirla dopo che noi abbiamo capito che quella sarà una zona di interesse da parte degli istituzionali e tutte queste cose naturalmente avvengono in qualsiasi time frame sia in time frame a 4 ore, 5 minuti e così via bene prima di proseguire voglio anche ricordarvi di Naga che è il broker che sto utilizzando per effettuare operazioni all'interno del mercato finanziario vi lascio il link in descrizione per iscrivervi perché grazie a Naga avrete anche la possibilità di avere un conto demo dopo aver verificato la propria identità è importantissimo avere un conto demo ragazzi soprattutto per esercitarsi quindi noi avremo la possibilità di esercitarci attraverso Naga collegando il tutto a metade del 4 oppure aprendo posizioni direttamente all'interno del broker quindi vi lascio il link in descrizione e all'interno di Naga avremo la possibilità di tradare qualsiasi cosa sia le criptoalute a rialzo o a ribasso indici etf e tanto altro detto ciò andiamo subito avanti adesso signori un'altra cosa che voglio farvi capire è quando aprire una posizione in fase di ritracciamento andiamo ad introdurre brevemente Fibonacci perché poi vi ho già detto che andrò ad affrontare una lezione nello specifico poiché è un argomento abbastanza interessante e soprattutto molto utile però prima mi raccomando lasciate un bel like per supportare tutto il mio lavoro se siete arrivati fin qui e iscrivetevi assolutamente a questo canale quindi dove andrò ad aprire una posizione buy in questo caso in un trend rialzista signori dove andremo a piazzare il nostro ordine e come vi ho già detto nelle lezioni precedenti noi andremo a piazzare il nostro ordine in fase di ritracciamento poiché sappiamo che il prezzo nel momento in cui sale fa massimi e minimi crescenti quindi noi dove andremo a piazzare il nostro ordine proprio qui andremo a piazzare il nostro buy e come possiamo riconoscere il nostro ritracciamento ve l'ho spiegato proprio poco fa a differenza del rialzo il ritracciamento ci mette molto più tempo quindi noi andando ad utilizzare Fibonacci piazzandolo dall'ultimo minimo e l'ultimo massimo potremo determinare il nostro ritracciamento e dove finisce il ritracciamento finisce nella zona 5 di Fibonacci e nella zona 6 sono le zone gold e spesso e volentieri anche nella zona 382 però noi dobbiamo andare a piazzare la nostra posizione sempre in zona 6 e in zona 5 nelle nostre zone gold e possiamo vedere che quasi sempre si trova infatti qui in zona 5 avviene questo ritracciamento poi prendendo sempre un altro trend possiamo vedere che in queste zone il prezzo reagisce sempre il ritracciamento reagisce sempre ragazzi andiamo a prendere un'altra zona di ritracciamento in questo caso tracciamo Fibonacci possiamo vedere come reagisce sempre in zona 5 e 6 e la stessa cosa anche per quanto riguarda il trend ribassista però come si traccia i Fibonacci sul trend ribassista dal massimo precedente al minimo e possiamo notare come in questo trend reagisce nella nostra zona gold signori e qui noi andremo ad aprire la nostra posizione short e in questo caso perché ci ritroviamo in un trend ribassista andiamo a piazzare il nostro stop loss in zona magari 7 oppure in zona 1 e andremo ad aprire la nostra posizione e possiamo notare che quasi sempre andremo in profitto ovviamente questo è una spiegazione superficiale ma noi andremo ad affrontare questo argomento nello specifico in un'unica lezione mi raccomando l'unico consiglio che sento di darvi adesso è di fare pratica e come potete fare pratica utilizzando il broker di Naga vi lascio il link in descrizione iscrivetevi e iniziate con un conto demo poi davanti a un grafico iniziate a fare pratica nel riconoscimento di zona di supporto, resistenze e tanto altro detto questo voglio anche ricordarvi che tutto quello che vedete all'interno di questi video lo sto apprendendo all'interno dell'accademia vi lascio anche il link in descrizione lasciate assolutamente un bel like iscrivetevi al canale se siete arrivati fin qui io vi saluto e noi ci vedremo nel prossimo video iscrivetevi al canale ciao